Tre anni vissuti ai crocicchi delle strade, nelle piazze estive dei comuni del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. È stata questa la scommessa del Festival della Teologia Incontri, che ha riscosso in questo triennio tanta attenzione sia dal vivo sia attraverso le dirette di Cilento Channel. Palcoscenico di questa iniziativa è il territorio del Parco Nazionale, in un mix di riflessione spirituale e valorizzazione territoriale, che coinvolge direttamente l'ente parco quale partner istituzionale sin dall'esordio. Serate di riflessione e di spettacolo cui hanno partecipato teologi e biblisti della Pontificia Facoltà Teologica dell'Italia Meridionale e ospiti esterni, come lo scrittore e teologo Don Luigi Maria Epicoco. L'iniziativa realizzata attraverso l'impegno organizzativo dell'azione cattolica della Diocesi di Vallo della Lucania, si avvale del coordinamento scientifico dell'Istituto Superiore di Scienze Religiose San Matteo di Salerno, di cui è direttore Don Bruno Lancuba. A causa dell'emergenza Covid, il programmato incontro in presenza per la presentazione degli atti ufficiali del Festival, originariamente previsto il 14 novembre a Vallo della Lucania, si realizzerà questa sera, giovedì 17 dicembre, alle ore 19.30 dagli studi di Cilento Channel, con la presenza indiretta del Vescovo di Vallo della Lucania Monsignor Ciro Miniero, del Presidente dell'Enteparco Onorevole Tommaso Pellegrino, del Direttore dell'Istituto Superiore di Scienze Religiose San Matteo, Don Bruno Lancuba e della Presidente Diocesana di Azione Cattolica Angela Russo, diretta quindi a partire dalle 19.30 sul digitale terrestre canale 636 Cilento Channel e sulla pagina Facebook dell'emittente televisiva.